Sulla schermo scorrono delle immagini di una mia opera che è un libro, si chiama Lusense. Parto da questo libro per fare alcune considerazioni su quella che è la mia idea di architettura e anche sul mio lavoro. Lusense è una canzone di Bruce Springsteen, ma anche il titolo di un libro contenitore di racconti scritti e illustrati dall'autore e scelti all'interno di tre macro temi, senza autore, meraviglia e proteforme individuati dall'analisi critica di Sara Marini sul mio lavoro. L'opera manifesto di una posizione e di un modo di procedere vuole essere una personale riflessione sul libro come opera aperta e sul ruolo del destinatario finale, il lettore. Il progetto rifiuta la struttura codificata del libro e l'obiettivo, come nelle opere costruite, diventa quello di ottenere qualcosa di non definitivo. Il libro in uso deve comporsi e scomporsi all'infinito, moltiplicare sguardi, rimandi, associazioni, dando origine ad azioni, interferenze, interpretazioni impreviste e producendo di conseguenza configurazioni mutevoli nelle sequenze di immagini e di scrittura. La contaminazione e la interferenza è prevista e utilizzata come strategia per violare ruoli codificati. Autore, curatore, autori, altri, lettore, chi è l'autore? Alla fine di questo libro la domanda che ci si pone è questa. La scrittura dei layout di ogni singolo lavoro vuole restituire il racconto di possibili risposte e non indicare itinerari da seguire. Al lettore è richiesta partecipazione. In uso, i fogli sparsi costituiscono un canovaccio in cui ognuno può muoversi liberamente, scompaginando l'ordine dato per trovare nuove sequenze e associazioni, dando origine ad altri molteplici racconti. Solo una stringa su ogni pagina segnala la strada per ritrovare la configurazione originaria. Il libro contenitore è uno spazio vitale, non raggiunge mai un assetto definitivo. Architettura come opera aperta. Anche l'architettura è un'opera aperta. Non si arrocca su principi e strumenti propri della disciplina, ma sconfina in territori sconosciuti, per comprendere meglio la complessità e la rilevanza delle questioni legate alla trasformazione dell'esistente. L'architettura non si impone, ma sollecita la partecipazione. E solo attraverso un esame approfondito, la capacità di ascolto, la persuasione e il confronto, riesce a consegnare un'opera condivisa, tenendo sempre a mente che il progetto è solo una possibile risposta in un preciso tempo e non la soluzione. Il tempo del progetto, della sua esecuzione e del suo uso è punto di aggregazione di un insieme di persone per raggiungere uno specifico obiettivo. Attorno a un disegno o sulle impalcature si intrecciano riflessioni, scambi di opinioni, suggerimenti, ordini, si attribuiscono ruoli e mansioni, si prendono decisioni, si precisano regole, e si utilizzano strumenti che, semplificando la condivisione simultanea di dati, governano e guidano l'intero processo. L'impalcatura in costruzione non è la torre di Babele, simbolo di incomprensioni e di rinunce, ma un organismo vivente che cresce accogliendo diversità, raccoglie sapere e competenze specifiche di altre discipline, richiede organizzazione e assunzione di responsabilità, utilizza, secondo le circostanze, lessi con morfologia e sintassi di lingue diverse. Obiettivo del progetto non è la ricerca di un assetto concluso, impositivo e riconoscibile, ma la definizione di un dispositivo in movimento, capace di trasformarsi, assumendo forme, ruoli, configurazioni diverse, ribaltando, se necessario, regole e norme codificate. L'architettura è un organismo vivente, che ha un'aspettativa di vita, accetta la propria fragilità ed è predisposta a subire alterazioni, modificazioni, amputazione, adattamenti a nuovi usi, impressi nel tempo da circostanze e comportamenti, non aspira all'eternità, non si occupa di preservare la sua integrità. L'opera sfugge ai principi di persistenza. La geometria transitoria del dispositivo non offre un riparo definito da precisi confini, ma uno spazio vitale, che suggerendo modalità di occupazione, richiede riflessione, decisione e scelta conseguente. Il dispositivo deve essere cangiante ed incantatore, capace di disponsare nutrimento all'immaginazione e provocare anche equivoci di percezione. Può svelare paesaggi fittizi, includere, frantumare, alterare i scenari, moltiplicare viste e nello stesso tempo innescare modificazioni radicali nella ripartizione di superfici e nell'attribuzione di funzioni. Una riflessione adesso sulla modalità di insediamento, che ho chiamato stratigrafia in movimento. Superfetazione, dal latino superfetare, che significa concepire sopra un precedente concepimento. Qualsiasi nuova realizzazione e forma della superfetazione, quindi è per definizione transitoria, non deve necessariamente correggere inconveniente, approssimazioni, incongruenze e casualità, chiede solo di stratificarsi sull'esistente, prescindendo da qualsiasi forma di giudizio sulla qualità del costruito e del paesaggio circostante. Il nuovo dispositivo si insedia senza clamore sull'esistente, con discrezione e misura, sfruttando le potenzialità latenti degli strati sedimentati della città e del territorio. Si sovrappone indifferentemente sull'ordinario e sulle tracce materiali della storia, e pur consapevole della transitorietà della propria presenza, non rinuncia a infondere nuova identità ai luoghi, dando origine a nuove sequenze del processo di sedimentazione. Qualsiasi strategia venga presa in considerazione evita false restituzioni del passato e mette in luce con chiarezza la propria ragione di essere, utilizzando senza pregiudizio procedimenti diversi, apparentemente contraddittori, conservazione, attivazione, integrazione, demolizione, innesto, nuova edificazione, al fine di rinforzare le relazioni tra nuovo paesaggio e presistenza, non erigendo confini, ma progettando sconfinamenti. Architettura e ingegneria. L'architettura non è la sommatoria di componenti a sé stanti, ma un organismo unitario. Nelle sequenze del progresso di crescita si precisano e si dispongono spazialmente elementi di diversa natura, si stabiliscono relazioni e dipendenze reciproca, dando forma contemporaneamente alla struttura ideale e alla struttura resistente. L'organismo si forma attorno al proprio scheletro, non indossa in un secondo tempo il modello matematico destinato ad assorbire carichi e sollecitazioni. Sergio Musmeci afferma che non si può essere soddisfatti di un metodo progettuale che confini l'uso degli strumenti razionali al solo processo di verifica. Diciamo è stato il mio professore, quindi evidentemente questo è una cosa di cui ho sempre tenuto conto. L'ultimo punto, l'ultima riflessione è sulla necessità di prolungare l'aspettativa di vita del costruito. Nella storia dell'uomo, la rovina, il reperto, lo scarto, l'oggetto trovato sono stati utilizzati come materiali da costruzione. Peruzzi utilizza le rovine del teatro di Marcello, Sohan il reperto e la copia, Schwitters lo scarto della quotidianità. Il riuso del materiale di spoglio delle rovine del passato è stata pratica comune dettata dalla necessità nell'edificazione della città. Solo in un passato recente le macerie del nostro passato seguono due diversi imprevisti destini, quello della conservazione e della musealizzazione o quello della sepoltura come rifiuto del materiale di scarso valore sotto la fabbrica della modernità e della speculazione. Nel mondo in cui viviamo, dove il contenimento dello spreco diventa una priorità, è necessario mettere in atto nuove pratiche per prolungare l'aspettativa di vita del materiale di spoglio, affidando alle macerie e agli scarti il compito di costruire una diversa immagine del mondo. Ho chiuso. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.